Olaone a tutti belli e brutti Dunque, io direi subito di continuare le nostre missioni con la prossima Questa è la mandorita della volta scorsa La rivolta di Antigua Sì, ci sarà anche Kerrigan in questa missione E c'è una cosa che mi fa tanto rida in questa missione Il primo dialogo Perché Kerrigan e Reynor mi fa morire da ridare Stupendo, bello, carino Perdonai, brutto porco Cosa? Ma se non ho neanche aperto bocca Mi basta quello che hai pensato Ah, già, puoi leggermi la mente Se ti fessiamo il nostro lavoro, ok? D'accordo Nell'originale non dicevano proprio queste specifiche parole Ricevuto Però va bene, dai pazienti Intesi Pensavo la stessa cosa Riescono a individuarmi persino quando sono occultata Dovremmo sbarazzarcene Intesi Sto aspettando te Con piacere Ricevuto Sono pronta Intesi Come, poter avanti Reynor Perché tanto lui è uno che Può venire riparato Bene Ah Pettato Qua Infatti Allora, vediamo un attimo Sono pronta Ricevuto Non so se si può stare a passare Con piacere Intesi Pensavo la stessa cosa Con piacere Pensavo la stessa cosa Non ho fatto c'è un'altra cosa Va bene Oh, sì Oh, mamma mia Che faranno Non ho fatto Oh, sì Perché Al cero Oh, sì Oh, sì Oh, dai Lui, fuggi Fuggi Ok Vabbè Sgonda Vai, ecco Molto bene Credo che gli antigami Siano pronti a unirsi a noi Esatto Abbiamo tollerato troppo a lungo Quegli idioti dei confederati Ok Allora Cominciamo Comandante Rilevo una massiccia forza d'attacco confederata in avvicinamento alla nostra posizione Vabbè, non si può dire che perdano tempo Le nostre forze sono sotto attacco Comandante Come mai Ah, ecco Ok Scusate, sono affreddattissima Cominciamo con gli aggiornamenti Sgb pronto, signore Ordini, capitano Ordini ricevuti Eh, sarà un po' lunga la situation qua Il tempo di gioco è già al massimo Quindi, vabbè In attesa Sgb pronto, signore Minerali insufficienti Sgb pronto, signore Minerali insufficienti Affermativo Sto pensando una cosa Sgb pronto, signore Pronto a servizio Allora Direi che Non appena sarà pronta anche l'altra ricerca Sgb pronto, signore Questo me lo sposto in basso E lo passiamo alle 200 Sgb pronto, signore Affermativo Ah, bene Sgb pronto, signore Dunque, che tattica usare qua? Cosa dobbiamo andare giù? Io userei un... In attesa Sgb pronto, signore Oh, ma che cacchio Ordini, capitano Depositi Sgb pronto, signore Servono altri depositi Eh, grazie Non mi ricordo Possiamo che scrivere anche... No Come ho detto L'armonio non ho ancora Molto bene La ricevo Bene Grazie Carissime Carissime Ordini ricevuti Qua mi si è messi Dunque, l'idea è quella di fare tanti aeroplanini invisibili da mandare giù E qua? Sgb pronto, signore Potenziamento completato Molto bene Possiamo arrivare qua che è più vicino C'è che c'è bisogno di te Attento ordini Muoviamoci Via, via, via E questo è l'idea Sgb pronto, signore Un'accademia Non c'è C'è bisogno di me? Pronto a servizio E un laboratorio Laboratorio Sgb pronto, signore Non esiste un laboratorio Ma vicino a bellica, semmai Un lice C'è un lice, non un lice Una dimenticanza Attento ordini Rock and roll Sgb pronto, signore E pronto ad andare Via, via, via Sì Pronto a servizio Sì Lavoro terminato L'altro Sì Cosa? La base è sotto il tacco Oh Sì Che è costruito in tempo, eh Mannaggia Sì Sì E questo C'è una tendenza di Minerale Sì Ah Ok Senza torre di controllo Non posso costruire il trasporto Lavoro terminato, signore Affermativo Lavoro terminato Rating attesa di ordini Lavoro terminato Sì Sgb pronto, signore La ricevo Immediatamente, signore Ordini ricevuti Affermativo Questa arriviamo adesso Che dobbiamo fare Rating attesa di ordini Potenziamento Completato Vediamolo un po' più qua Questa è quasi finita Sì Lavoro terminato Pronto a servizio Così possiamo Costruire Lavoro terminato Qua Lavoro terminato Molto bene Adesso possiamo Poterne uno Non di più Massimo faccio più giri No, no, no Mi mancano le risorse Niente Ok Questo è finito Bravo Oh, molto bene Ah, bene, bene, bene Bene Ok C'è già molto Insomma Quindi Molto bene Ok Ok Lavoro terminato Pronto a servizio È alta Rating attesa di ordini 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 Sì Sì Fantastico Oh Oh Eh, noi lo vediamo Tutti di mezzo Rating attesa di ordini Rating attesa di ordini Lo studiamo, lo studiamo Pronto a servizio Ci andrà un attimo Rating attesa di ordini allora facciamo una serie di molto bene allora quanti ce n'è? stiamo ancora mi mancano molto i bookmark qua al fondo vabbè andiamo a l'armi da terra non serve l'armi aerea invece vedete com'è ricevuto coordinate ricevute azione d'attacco vettore stabilito coordinate ricevute ricevuto le nostre forze sono sotto attacco coordinate ricevute tornitemi le coordinate coordinate ricevute ricevuto vettore stabilito dateci le coordinate rispettare l'armi snotte 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 Che c'è ora? Dateci le coordine Comandante, muoviamoci Avanti, comando L'energia è insufficiale Formazione d'attacco Non ricevuto Avanti, comando Avanti, comando Ordini, capitano Dateci le coordine La ricevo Affermativo Avanti, comando Coordinate ricevute Pronto quando vuoi Eh, mi sono male Dateci le coordinate Mi ha messo molto male Sto ascoltando Tenetevi forte ragazzi Rating attesa di ordini Rating attesa di ordini Destinazione Ordini capitano Destinazione E... Immediatamente signore Oh no Oh no Non è una ferma Sua malissima Chi è la questione Adesso la gestiamo A rapporto In attesa In attesa Raid in attesa Di ordini Raid in attesa Di ordini A rapporto Formazione 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 D'attacco A rapporto Avanti, comando Coordinate ricevute Ampliamento Completato Allora Allora Vediamo un attimo Cosa ci aspetta Rating attesa Di ordini Rating attesa Di ordini Fornitemi le coordinate Coordinate ricevute Formazione D'attacco Vettore Stabilito Coordinate ricevute Vettore Stabilito Oh sì Via 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 Vettore Vettore stabilito Ricevuto Pronto a servizio Ordini ricevuti In attesa Guarda Ma non è facile Ma se Raid in attesa Di ordini La ricevo Io adesso Sto annegando Nei minerali Vedi che prima Erano problemacci Adesso In attesa Sì Immediatamente Signore Ordini ricevuti Pronto a servizio In attesa Parrapporto Formazione D'attacco Ricevuto Vettore Vettore Di ordini Coordinate ricevute Formazione D'attacco Ricevuto Sì Vettore Vettore Stabilito Coordinate Ricevute Formazione D'attacco Ricevuto Vettore Ricevuto Vettore Formazione D'attacco Ricevuto Vettore Vettore Stabilito Vettore Usato Un po' troppo Eh Osato E' veramente Troppo Sto giro Avanti Comando Abbiamo già Dei backup Degli ultimi Backup Fornitemi Le coordinate Formazione D'attacco Vettore Stabilito Coordinate Ricevuto Coordinate Ricevuto Ricevute Fondazione D'attacco Coordinate Ricevute A rapporto Vettore Vettore Stabilito Perché Perché Porca Ricevuto Io non lo so Cioè Intellegente artificiale È proprio Scarsa Qua Che Cioè E' già molto meglio. Un'altra linea, la linea, la linea, la linea, la linea, la linea... Sì, è vero E' vero qua Viena no avanti comando la base è sotto attacco sono pronta ok parti broia c'è bisogno di me dateci le coordinate c'è bisogno di me in attesa c'è bisogno di me vettore formazione c'è bisogno di me via 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 però è che non camminava in un campo minato è una cosa lunghissima è un po' ballosa questa missione c'è bisogno di me fornitemi le coordinate avanti comando c'è bisogno di me rating test di ordini rating test ordini fornitemi le coordinate c'è bisogno di me 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 vi invito a mettere like condividere il filmato scrivere commenti domande curiosità così critiche tutto quello che volete nei commenti video appuntamento al prossimo filmato buona serata a tutti dal vostro morgen